Ciao, quante volte hai pensato di iniziare a fare del movimento? Quante volte hai pensato di iscriverti in palestra o di indossare le streppe da ginnastica e andare a fare una camminata? Ma poi hai rimandato, rimandato ancora e a oggi non hai ancora fatto quel primo passo. Questo perché stiamo tutti i giorni di corsa tra mille impegni, tra famiglia, figli e lavoro e non riusciamo a ritagliarci il tempo per prenderci cura di noi stessi, il tempo che meritiamo da dedicare al nostro benessere. Anche perché si pensa che per allenarsi si debba andare in palestra tutti i giorni dalle 5 alle 8. Ma ho una splendida notizia per te, non è così, sono sufficienti 40 minuti due volte alla settimana. Proprio così, solo due volte alla settimana per stare meglio, per riscoprire i benefici del movimento. Non ci credi? Proviamoci, proviamoci insieme. Ti do la possibilità di allenarti per 8 volte in un mese. Ci alleneremo insieme. Come? È semplice, basta che scarichi il coupon direttamente dal link che trovi in questo post e riceverai il tuo invito personalizzato. Basterà prendere un appuntamento, ci conosceremo di persona e inizieremo il percorso di allenamento insieme. Ti va? Io spero di conoscerti presto, spero di iniziare insieme a te questo percorso facile, semplice e sostenibile in direzione del tuo benessere. Ti aspetto. Ciao!